non lo so dico subito che non lo so non so come approcciare questo video non so come iniziarlo non so come proseguirlo vediamo vado a manassa non posso fare altro buona serata intanto è sabato notte perché è mezzanotte 20 nel momento in cui sto registrando questo video io stasera mi sono visto l'Atalanta passeggiare e disintegrare l'Ellas Verona e intanto pensavo wow che bello deve essere fare una partita con sei gol domani invece noi affronteremo una partita difficilissima dove portare a casa un buon risultato sarà la cosa più complicata del mondo e sapevo perfettamente che sarebbero iniziate ad uscire le prime indiscrezioni per quanto riguarda la probabile formazione della Juventus e che domani mattina poi le avremmo commentate insieme ecco io però non mi aspettavo di dovermi mettere qui a registrare di notte e far uscire un video notturno nel quale avevo davvero letteralmente bisogno di parlare un po insieme a voi perché sono confuso non riesco sinceramente a comprendere quello che sto vedendo io ti faccio una richiesta Giovanni albanese l'ho già scritto in privato gli ha detto ti prego dimmi che è uno scherzo dimmi che sei fuori a cena ti sei bevuto un amaro di troppo e che non è quella roba lì e invece mi ha detto no per il momento sembra essere confermata questa quindi Giovanni ti assumi una grandissima responsabilità perché questo video nasce esclusivamente dal fatto che quella formazione che hai postato su twitter mi sembra un'assurdità per essere vera io adesso mostro lo screen che hai pubblicato che è marcato sport italia e poi lo commentiamo insieme Giovanni dimmi che non è un troll Giovanni dimmi che non è una bugia Giovanni dimmi anzi no dimmi che è una bugia facciamo così dimmi che è una bugia però questo video è basato esclusivamente su questo di Gregorio Cambiaso Calulu Danilo Savona Fagioli Wea McKennie Logatelli con Seisao Vlaovic non gioca Ildiz non gioca Gatti non gioca Cabal ci sono tante 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 scelte molto particolari tra cui Wea sinistra e con Seisao a destra insomma una formazione unica nel suo genere ma è schierata in precedenza la Tiago Motta che vede diversi giocatori esclusi dai titolari quando in realtà tutte le volte che sono state all'esposizione e sono stati bene sono sempre stati titolari Danilo e non Gatti mi sembra una scelta scellerata anche alla luce di quello che abbiamo visto l'altro giorno quello che è stato in Champions League e ancora una volta anche l'altro giorno ci interrogavamo sul perché non fosse entrato Gatti Gatti che non aveva avuto la fascia da capitano con la Lazio l'aveva avuto da Cambiaso Gatti che non ha giocato in Champions Gatti che non è entrato nel momento del bisogno e Gatti che in questo momento sembra non giocare quella che è la probabile formazione nemmeno con l'Inter non lo so non lo so è una formazione che oggettivamente la prima cosa che ti viene in mente di dire è troppo brutta per essere vera non mi viene in mente nient'altro se non questo però ho imparato diverse cose da quando seguo il calcio e cioè che non si giudica un libro alla copertina questa è la principale e cioè da una formazione non puoi poi tirar fuori un risultato faccio un esempio la formazione contro lo Stoccarda non mi sembrava una brutta formazione per cercare di alimentare la continuità di alcuni elementi e allo stesso tempo far rifiatare altri in vista della partita con l'Inter mi sembrava comunque una formazione competitiva che conteneva un turnover ecco diciamo che alla fine la prestazione è stata pessima quindi nulla vieta di dire che questa formazione che non mi convince per niente poi alla fine possa rivelarsi la formazione che va a vincere la partita tradotto non è che se schieriamo questa non si può vincere questo credo che sia scontato è anche logico pensare che comunque nella situazione di emergenza nella quale sta navigando attualmente la Juventus per infortunati eccetera eccetera si possa comunque fare qualcosa di meglio rispetto a questa roba qui questa è una formazione che mi sembra palesemente orientata alla difesa sembra veramente una sorta di grido di aiuto di Tiago Motta nei confronti della sua squadra avevamo parlato di Tiago Motta molto preoccupato in conferenza stampa beh questa formazione è probabile perché non è confermata ma probabile sembra andare in quella direzione cioè Tiago Motta era veramente preoccupato ed è per quello che è iniziato a fare il discorso delle squadre che hanno più possibilità di vincere lo scudetto che sono Inter e Napoli Napoli che tra l'altro ha vinto una partita importantissima oggi con un gol di Di Lorenzo in realtà 2-1 nullato per fuorigioco il secondo regolare però Napoli che vince anche oggi Tiago Motta aveva iniziato a parlare degli altri mi era sembrato qualcosa di strano in caso di confermare questa formazione mi verrebbe veramente da pensare a un Tiago Motta molto preoccupato per la sfida all'Inter dove vede una Juventus decisamente troppo indietro rispetto ai Nerazzurri quindi preferisce andare a giocare una partita di pura copertura per non prendere gol per cercare di non perdere sarei deluso lo dico senza ombra di dubbio perché Tiago Motta ci ha spiegato che ovviamente l'obiettivo e ce l'ha spiegato nelle diverse conferenze stampe che l'obiettivo era quello di giocare al 100% contro tutti gli avversari di essere competitivi contro tutti gli avversari questa è una formazione che non mi sembra abbastanza competitiva mi sembra una formazione che di alle tre fasi del gioco quindi quella offensiva, quella difensiva, quella di transizione ne può fare bene un e mezzo che è quella difensiva dico mezzo perché l'unico modo che avrebbe questa squadra di rendersi percolosa sarebbe soltanto la ripartenza l'anno scorso l'Inter aveva un dato e cioè praticamente non prendeva mai gol sulle ripartenze sulle transizioni era una squadra che non solo non prendeva gol ma aveva fino a poche settimane dal termine del campionato 0 di XG subiti su una ripartenza degli avversari la Juventus con questa formazione andrebbe a snaturarsi l'altro giorno io vi parlavo di difesa 3 e tanti di voi mi hanno detto no la difesa 3 non ci sta perché andrebbe a snaturare la Juve e io vi spiegavo che in realtà non è il cambiare la formazione che va a snaturare una squadra è cambiare il tipo di atteggiamento che vai a mettere in campo che la va a snaturare traduco giocare con la difesa 3 con la voglia di tenere il pallone e andare all'attacco non significa giocare con la difesa 3 che magari abbiamo visto fino all'anno scorso dove l'obiettivo principale era difendersi basti pensare a partita dell'Atalanta di stasera che fa 6 gol giocando con la difesa 3 anche se giochi con la difesa 3 pensi solo a difenderti se giochi con una formazione del genere che è una difesa comunque a 4 che è un 4-1-4-1 come abbiamo già visto tante volte con Tiago Motta beh invece sì l'idea che ti arriva è difese contro piede difese contro piede metto il pullman e poi riparto invece la Juventus e Tiago Motta ce l'ha sempre spiegato ha un'idea in testa cioè dominare la partita attraverso il possesso della palla con una formazione del genere viene a pensare che invece la Juventus vada ad accantonare quella che è la sua filosofia per abbracciarne un'altra che magari poi con i giocatori che ha a disposizione può essere anche più impattante io ve l'ho sempre detto a me piace di più una squadra che va di strappi e di ripartenze piuttosto di una che va di un possesso palla che alla fine diventa un possesso palla lento e magari sterile eccetera eccetera però tutto in una volta cioè sarebbe stato molto meno invasivo semplicemente cambiare modulo ma mantenere la filosofia piuttosto che mantenere il modulo e cambiare la filosofia poi attenzione nulla ci impone di pensare che Tiago Motta continuerà a lavorare col suo credo anche con questa formazione però a voi sembra una formazione questa che può andare a San Siro contro quest'Inter a fare palleggio e possesso palla poi magari la Juventus con quella disposizione non ce l'ha neanche la squadra per andare a San Siro e fare possesso palla e quindi Tiago Motta la legge in questo modo però ammetto che alla squadra sarebbe comunicare un messaggio di un certo tipo sicuramente non il messaggio di una squadra che vuole essere ambiziosa vuole crescere e che vuole giocarsela a pari con tutte le altre cercando di far venire fuori quelle che sono le sue caratteristiche migliori quelle su cui Tiago Motta ha lavorato dall'inizio di quest'estate perché contro tutte le squadre la Juventus ha sempre provato a fare la partita con alcune c'è riuscita con altre no ma ci ha sempre provato ripeto non si può fare un processo a una probabile formazione magari questa domani mattina verrà accantonata ne verrà schierata un'altra titolare o magari questa sarà la formazione che scenderà in campo e con quella Juventus vincerà per 4-0 in trasferta a San Siro contro l'Inter non lo possiamo sapere possiamo soltanto dire che oggettivamente e credo che questa sia veramente una cosa oggettiva e non soggettiva perché ho visto praticamente tutti i commenti in quei pochi minuti che mi sono ritrovato su Twitter a leggere la formazione tutti i commenti andavano nella stessa direzione cioè tanto stupore la gente non si aspettava questi 11 ma neanche per sogno ma neanche per sbaglio e sembra veramente una formazione generata da un'intelligenza artificiale o schierata su FIFA piuttosto che la formazione probabile formazione di quello che dovrebbe essere il derby d'Italia quindi io spero di essere stato abbastanza chiaro e cioè per me è un grande no è ovvio che poi bisogna vedere che tipo di partita in testa che tipo di partita preparata Tiago Motta qual è la sua idea ma sinceramente e solo banalmente con questo screen che vi metto nuovamente in grafica mi sembra andare a San Siro per fare una partita che questa Juve non deve nemmeno prendere in considerazione perché l'abbiamo visto banalmente con lo Stoccarda la Juve era brava a difendere con la palla non senza palla la filosofia della Juve di Tiago Motta è difendersi con il possesso del pallone quando sei in balia dall'avversario esce fuori una partita che in questo momento noi non sappiamo fare perché Tiago Motta non l'ha nemmeno mai presa in considerazione quindi sono molto curioso di vedere se sarà confermata questa formazione e se sì che tipo di approccio alla gara vorrà dare Tiago Motta perché mi rifiuto di pensare che da un momento all'altro e soltanto per aver perso una partita dove non sei stato in grado di mantenere il possesso del pallone possa decidere di prendere tutto quello che ha fatto su tutto quello su cui ha lavorato dall'inizio di questa stagione in estate con il mercato aperto con tanti giocatori che ancora non c'erano eccetera eccetera e tornare indietro e mettersi semplicemente a fare difese contro piede una caratteristica che questa squadra non sembra avere minimamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti sono molto curioso di discutere insieme a voi queste scelte che secondo me in questo momento sono molto molto bizzarre